Case, scuole, negozi sempre aperti, nessun divieto di circolazione e non ci puoi arrivare in macchina. Grande quanto una città, il sito di Italia 1 si è rinnovato. Tutti i programmi, i volti, le notizie che vuoi. Puoi vedere, ascoltare, comprare. Se ancora non l'hai visto, facci un giro. www.italia1.com Libertà di circolazione. www.italia1.com